Salve a tutti amici, mi chiamo William Bruno e non preoccupatevi, non ho nulla che non vada, ieri sono stato morso da uno zombie e ora ho questo aspetto, visto che è andata così, oggi ho deciso di fare il più grande nascondino in maschera contro gli zombie con i miei amici. Tre partecipanti, uno zombie, una serie di luoghi interessanti dove nascondersi e solo un'ora per trovarli, ogni concorrente ha due vite, il che significa che per vincere questa sfida devo trovare tutti due volte in un'ora, se io ci riuscirò allora vincerò 5 euro, se invece non ce la faccio i 5 euro vanno ai ragazzi, i ragazzi hanno 15 minuti per nascondersi. Usciamo di qui, nascondiamoci in fretta, forza! Ragazzi, questo è un nascondino mimetico, quindi non possiamo nasconderci in luoghi standard e normali, parlando di regole, se mi nascondo in maniera semplice, ad esempio dietro questo tavolo non è regolamentare, quindi avremo bisogno di un nascondiglio a tema, sai come nasconderti, in cosa trasformarti, adesso per esempio, sei un essere umano ma puoi diventare un muro, un armadio, un mobile, un elemento di arredo in modo che Bruno, cioè uno zombie, non possa mai trovarci! Ora la sto cercando con gli occhi di capire in qualche modo dove nascondermi, beh, dicevo che in questo angolo, guarda quante cose ci sono, la giuccia o la palma, in realtà uno di noi può trasformarsi in quella palma, là dietro le tende c'è un mucchio di oggetti di scena in cui ci si può travestire, ma personalmente non vedo molto spazio per me stesso qui! So che molti di voi non hanno visto il nostro video a tavola, una volta abbiamo girato un video molto leggendario proprio su questo tavolo, date un'occhiata come si è ridotto, se volete dei video fighissimi di noi che proviamo dei cibi diversi, dovete scriverlo nei commenti! Ecco, Pascia per esempio mangerebbe volentieri! Avete trovato un posto? Penso che il nostro magazzino sia come un posto ombroso di stand-off 2, è il posto più ovvio per nascondersi, ma per te ho trovato un bel nascondiglio! Dove si trova? Beh, anche darsi che tu là ci stia, ci credi? Dov'è? Dove c'è quella nostra enorme piscina o? No, Pascia, questo posto è nella sala lunga dove di solito mangiamo prima dei video! In quella stanza c'è un microonde, ho preparato quel posto ma sono contento di darlo a te, vai nasconditi e io troverò un posto per me qui! Andiamo, grazie Artiom, ci vediamo! E invece io troverò un posto qui! Mi ricordo come uscivamo da qui, 100 strati di polistirolo! Ragazzi, è semplicemente un mega nascondiglio! Sul serio, prima di tutto, qui ci sono queste scatole impenetrabili e non è possibile che qualcuno mi veda! E poi, beh, qui è molto comodo! Il magazzino, ad essere sinceri, è un po' sporco, non voglio nascondermi nel magazzino, ecco perché vado... Beh, come ho già detto, non posso nascondermi semplicemente dietro questi canotti, quindi mi è venuta un'idea semplicemente geniale! Farò un buco per la mia testa proprio qui e mi nasconderò in uno di questi canotti! Anche se lo zombie viene qui, dovrà passare attraverso tutti i canotti per trovarmi e solamente in questo modo riuscirà a trovarmi! Ora preparo il mio nascondiglio e mi nascondo! Oh, amici, siete già qui ad aspettarmi? Che bello, cerchiamo il nascondiglio che Artiomo ha preparato per me! Ecco, c'è il microonde, ma non sono sicuro di dove dovrei nascondermi esattamente perché... Beh, sono piuttosto grosso, non so se c'è spazio qui, forse... Ragazzi, guardate, amici, c'è un buco nel microonde e nel tavolo! Con questo Artiomo vi avete fatto il buco? Ho usato questo microonde proprio stamattina, era completamente intatto! Ok, andiamo avanti e proviamo ad entrare qui, ragazzi! Ragazzi, ho cercato a lungo il mio nascondiglio e ora l'ho trovato! Io sono l'uomo dello scotch! Beh, è una battuta, ragazzi! Guardate com'è bella la mia mimetizzazione! Vado sul muro, mi nascondo e basta, non mi vedete, va bene? Solo che non riesco a vedere, beh, non so cosa ci sia lì dentro! Ma penso che sarà bello e gli zombie non mi troveranno comunque! Ecco! Ecco, ragazzi, sono il microonde! In pratica sono un microonde! Sono parte di esso! Guardate, sono bianco e non sono diverso all'interno di questa macchina, amici! Se vi chiudete, credo che non sarebbe possibile trovarmi, soprattutto per un zombie cieco! Chiudimi per piacere, per la dimostrazione! Ecco! Ragazzi, vedete? Mi vedete dalla telecamera che è all'interno? Non credo che qualcuno mi troverà ora, perché il posto è best davvero assurdo! Ragazzi! Oh, sono pronto! Beh, sono qui truccato! È improbabile che quello stupido zombie mi trovi, perché sono dietro una scatola impenetrabile e ho un bellissimo nascondiglio! Guardate! Mi adagio! Devo solo mettermi un po' comodo qua! Ok, ragazzi, mi sono nascosto! Adesso non posso andare in bagno, ma va bene lo stesso! Amici, i ragazzi mi hanno chiuso qui dentro, mentre si nascondono per non farmi vedere il loro nascondiglio! Ma il tempo a loro disposizione è scaduto, quindi esco da questa cella! Ragazzi, inizio la caccia! Anche se ho molto tempo, ho un'intera ora per trovare i ragazzi, ma con questi occhi non riesco a vedere assolutamente nulla! Per questo il mio compito risulterà un po' più difficile! Ragazzi, sono stato in questa stanza, quindi non credo che qui ci sia qualcuno nascosto! Vado a cercare le altre stanze, ari schnieff! Bruno mi sta cercando! Anche tu sarai uno zombie oggi! No, non lo sarò di certo! In realtà, ragazzi, in questo studio c'è un numero infinito di posti dove... Nascondersi! Quindi, non sarà facile trovare i ragazzi oggi, ma ci sono 5 euro in palio, quindi sono disposto a lottare per quei soldi! Paschka! Paschka shiriai! So che sei qui da qualche parte! Probabilmente qualcuno si nasconde nella sabbia, sotto la sabbia! Ragazzi, vi tiro fuori tutti! No, non credo che qualcuno si nasconda qui sotto! Beh, mi è permesso! Io sono uno zombie! Loro fanno così! E in più, se qualcuno fosse qui, lo troverai subito! Ragazzi, nascondersi il microonde è stata una bella idea! Perché qui posso guardare tranquillamente i miei TikTok! Vedete? Ho il mio telefono qui sotto! Sono seduto qui a divertirmi! Per ammazzare il tempo mentre Bruno cerca gli altri! È un buon angolo sicuramente! Ma ragazzi, io non vedo davvero un cavolo qui! Riesco a vedere un oggetto a circa mezzo metro di distanza! Come voi da me ora! Se mi dovessi nascondere, io senza dubbio mi travestirei da ruota della fortuna! Cavolo, quei TikTok con i cagnolini e i gattini sono divertenti! Ce l'è di tutti i tipi! Ecco Bruno che entra, silenzio! Ragazzi, oggi vi troverò tutti! È davvero in questa stanza, amici? E fra un'ora qui non ci sarà solo uno zombie, ma quattro! Tutti i miei amici si trasformeranno in zombie stasera! Mi è stato accanto, cavolo! Dove siete? Dove vi siete nascosti tutti, eh? Artyom! Pensavo fosse la metà di Artyom, ma è qualcun altro! Safi! Pasca! Dove siete tutti? Potrebbero essere mascherati da qualsiasi cosa! Quindi, anche queste porte potrebbero essere Artyomari, Schneef! Questo cubo qui! Safi 1, 2, 3, 4! Scusate, io sono un po' maldestro! Io sono uno zombie! Beh, ma così è successo! Guardate! Ci sono tre persone! Una di queste potrebbe essere il cattivo che si nasconde e spera di vincere! Vi farò vedere! Ehi, spero quella non fosse la testa di Safi! Cosa vi piace di più? Il basket o il calcio? A me piace la palla a volo! Mi piace molto! Scrivetelo nei commenti, così so in quanti siamo noi pallavolisti! Preferisco continuare a guardare TikTok! Lì, con i miei cani e cagnolini preferiti! No, nessuno si nasconderebbe qui di sicuro! Dove siete, ragazzi? Il tempo passa! Oh, maledizione! Mi sa che non era ancora uscito! Mi sono messo a ridere! Pasca! Sei così brutto, Bruno! Senti, una bella mimetizzazione! Ma pensavi di farla franca! In realtà sì! Perché sei passato di qui un paio di volte e non mi hai visto per niente, amico! Per niente! Non mi avresti mai trovato a meno che non avessi voluto scaldare un panino! E voi, zombie, mangiate solo cervelli! Non avete bisogno di scaldare una salsiccia! Noi mangiamo cervelli per essere sempre più intelligenti! Ma non mangerò il tuo! E questo che cosa significa? Guarda che è un'istruzione! Sai chi sono, amico? Io sono un avvocato senior! Comunque hai trovato altri? Sei il primo zombificato di oggi! Sono un babbeo o cosa? Ma io vi ricordo che Pascia ha un'altra possibilità di nascondersi e non perdere! Allora Pascia, nasconditi di nuovo e io vado a cercare gli altri! Io sono qui da chissà quanto tempo! Ho sentito chi ha trovato Pascia! Spero che non mi trovi a me! La cosa principale, ragazzi, è crederci! Credere nella vittoria! Ragazzi, non vedo molto bene, ma sento abbastanza bene! Quindi sento proprio che c'è qualcuno in questa stanza! Non me ne andrò da qui finché non avrò scoperto chi si nasconde qui! Con lo skate penso che sarà più veloce! Beh, sapete? Sono già uno zombie, quindi non mi fa tanta paura morire! C'è qualcuno? Adesso mi troverò! Cosa sta facendo lì? Questo è un problema! Io non capisco, ho sentito che c'era qualcuno qui! Forse si nascondono troppo bene affinché non me ne accorga quando passo tra un nascondiglio e l'altro! Semplicemente, quando si prende il virus di zombie si perde del tutto la vista! Per questo è quasi impossibile trovare i ragazzi! Sono riuscito a trovare Pascia solo perché si è messo a ridere! Altrimenti non l'avrei mai trovato! Immaginate, si era nascosto nel microonde! Non avrei mai pensato che si potesse entrare lì dentro! Allora, dov'è che vi siete nascosti? Credo che qui ci sia Suffick da qualche parte! Solo che non ho idea di dove sia! Forse quella lampada! Ok, dai! Il tempo sta per scadere e ho trovato solo Pascia! Ragazzi! Io dove siete? Vi troverò tutti! Ragazzi! Questo è proprio assurdo! Non riuscivo a vedere nulla con quella mutazione oculare! Ero proprio davanti a lui! Lo avete visto tutti! Abbiamo un magazzino abbastanza grande! Quindi potete sicuramente nascondervi qui dentro! In modo che nessuno zombie possa trovarvi! Ma io non sono uno zombie normale! Io sono uno zombie normale! Io sono fortemente motivato! Io! Mi sento il dito! Non sono proveniente dal magazzino! Da qualche parte in quella direzione! Ma guardate laggiù! Guardate! Se uno si infila in quel mucchio di spazzatura non lo troverò mai tutta la vita! È impossibile! Forse Arishnev si è nascosto di nuovo! Travestito da cacca! Allora vincerà sicuramente questa volta! Perché c'è un tale casino! Che è impossibile trovare qualcuno! Io comunque spero che i ragazzi non siano così furbi da nascondersi in questo mucchio di immondizia! Ragazzi qualcuno ha preso tutti i miei canotti e li ha messi da qualche parte! Guardate! Qui non c'è neanche un gonfiabile! Giovedì devo andare a pescare! E non ho neanche un canotto! Ragazzi non ce la faccio! Non so da quanto tempo sono qui! Amici! Dov'è quello zombie? Le gambe mi fanno già un male cane! È passata quasi un'ora! Sto qui e non mi muovo da questa posizione! A quanto pare la mia memesi è troppo buona! Credo che Pashkash Kriaev sia in giro da qualche parte da un po' di tempo e abbia consumato la sua prima vita! Non scegliete mai un nascondiglio troppo efficace! È pericoloso! Io non lo so! Saranno passati almeno 10 minuti! Ho già guardato un sacco di posti! Quindi continuerò a cercare, cercare, cercare! Davvero con questi occhi non si vede proprio niente! Ecco guardate! Questo è tutto ciò che io vedo in prima persona! Nulla! È tutto bianco! Niente! Ma ci sono 5 euro in palio! Quindi ragazzi siamo motivati! Oh! Guardate! L'ultima volta Safik si era nascosto nel suo armadietto! Forse anche questa volta! No! A dire il vero è peggio! Sicuramente dall'armadietto non si vede nulla! Ma vale la pena controllare gli armadietti! Qualcuno si è chiuso qui dentro! Ah! Ah! Non c'è nessuno qui! Ma se ci fosse stato io l'avrei trovato sicuramente! Questo è l'armadietto di Pasha Shiriaev! Ragazzi! Questa è la felpa di Pasha Shiriaev! Ecco perché non mangerò il cervello di Pasha! Perché anche quando si nasconde! Posa le sue cose nell'armadio! Affinché io mi renda conto! Che lui è proprio qui! In questa stanza! Pasha! No! Non credo proprio sia Pasha! È solo una pianta! Ragazzi! Sento qualcuno qui intorno! Probabilmente qualcuno che si nasconde nella piscina! E' una macchinetta! Non riesco a vedere! È troppa luce! Pasha! Ma è la seconda volta di fila! Cosa? Sono di nuovo il primo! Non il primo! Non il secondo! Ma tu sei il secondo! Beh senti! Credo di non essere stato così bravo a nascondermi come pensavo! Per tutto il tempo che hai corso qui vicino a questo legomeno e non avresti potuto immaginare che ce l'ho io qui dentro! In realtà non è un brutto posto per nascondersi! Io vorrei congratularmi con te! Ma hai perso tu! Pasha! Avevi solo due vite! E ora tu hai sprecato l'ultima! Non ci sarà un premio di consolazione? Non so quanto sia un premio ma ora sarai uno zombie! Cosa? Beh comunque fra un paio d'ora tornerai come prima! E adesso andiamo a cercare gli altri ragazzi! Dobbiamo trovare anche Safik1234 e... E anche qui non c'è nessuno! Io so esattamente dove si trovano! Si nascondono in ogni caso in posti dove ancora non ho guardato! Quindi ora controllerò ogni angolo! La mia vista può essere scarsa! Ma io troverò sicuramente Safik col tatto! Safik! E anche qui non c'è nessuno! Forse qualcuno si nasconde dove è iniziato il gioco! Ma sarebbe troppo facile! Qui sono stato davvero pessimo nel cercare! Ma ora controllerò ogni dettaglio! Credo siano palloncini! Ragazzi! Guardate! Sono gli stessi canotti che qualcuno mi aveva rubato! Non lo so! L'altra volta non li ho controllati bene! Ma questa volta sono sicuro che il bastardo non la farà franca! Ragazzi! Finalmente l'ho trovato! Ero sicuro che qualcuno si nascondesse qui! Dobbiamo scappare! Ma almeno ho trovato i canotti! Non c'è un secondo da perdere! Dove? Dove sono tutti? In realtà ragazzi ho trovato solo Pasha Chiriaev! Ok ragazzi! Controlliamo di nuovo questa stanza! Ho pochissime idee di dove ci si possa nascondere qui! Ma cercherò comunque! Ah! Aschina per qui! Da qualche parte! Beh da qualche parte qui in questo studio! Nel raggio di un chilometro! Credo sia qui da qualche parte! Arishnev ti ho trovato! Non sono Arishnev! Sono Safik 1, 2, 3, 4! Ma quale Safik? Ho appena bruciato la mia prima vita! Quindi mi nasconderò da qualche altra parte! Va bene allora! Pensavo fosse Arishnev invece da Safik! Ma comunque! Gli è rimasta ancora una vita per nascondersi! Ma lo troverò comunque! Ho già capito che aspetto ha! Qui c'è un muro! Non credo che qualcuno si nasconde in un muro ma! Cos'è uno scherzo? Ma chi si nasconde in questo modo? Almeno finisci la faccia! Ecco! Una vita in meno! Ok! Come vuoi? Vai a nasconderti un'altra volta! Ok va bene! Mi nascondo! Vai a nasconderti! E ora dai! Ti vedo Artyom! Vuoi andare a nasconderti oppure no? Hai ancora una sola vita! Ma ancora una vita! Ma ha senso questa cosa? Perché ragazzi è già passata un'ora e mezza! Dove sono i miei 5 euro? È già passata un'ora e mezza? Sì! Io e i ragazzi abbiamo vinto! Quindi dammi 5 euro! Mi assicurerò di comprare 3 kebab oggi! E io e i vincitori faremo una bella mangiata! Io la prossima volta mi vendicherò! Vi farò diventare tutti zoni!